Signori del pubblico, ecco, per darvi un esempio di quanto sia stato utile spendere centinaia di miliardi della cooperazione italiana qui in Somalia. Questa è la Garo e Bosaso, una strada, come vedete, molto trafficata, indispensabile. Ma almeno è servita a coprire ogni sorta di porcherie, tossiche e radioattive, che l'Occidente ha la buona abitudine di affidare a questi poveri disgraziati del Terzo Mondo. Tutto questo con la complicità di politici, militari, servizi segreti, faccendieri italiani e somali. E questi morti di fame ci comprano anche le armi. Ma allora, ma lasciamoli continuare le loro piccole guerre. In fondo non danno fastidio a nessuno.